ciao 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 come stai bene grazie quanto tempo fa si tornata a fine agosto sono contenta di vederti anche io tanto mi dispiace io non posso rimanere molto perché sono entrata nel club dello spettacolo a scuola e stiamo mettendo in scena 100 clown non so se lo conosci comunque stiamo diventando veramente matti a metterlo in scena sono anche diventata segretaria quest'anno ma non fare complimenti no 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 mi faceva piacere vederti tanto anche perché ti ho sentito un po strana ieri al telefono e quindi sì no è che era soltanto una giornata un po grigia ho iniziato scuola faccio anche nuoto nuoto non me l'hai mai detto che facevi nuoto è bellissimo sì ma in realtà non è niente di che credo che starò in panchina tutto l'anno io credo di no veramente i tuoi genitori saranno orgogliosi sì cosa vi posso portare hai fame no ma una coca cola due coca albera ok pensi ci sia rimasto male ho detto qualcosa no tu no tu no scusa che non so vedo tutto nero per te giorni e io cosa sai che cosa ho sempre desiderato karen è che ti vedo seduta lì e sei bellissima sei veramente bella anche tu ti manca cosa all'ospedale no cioè non ti manca affatto no gli stupidi scherzi di leo vai da un dottore sì vado vado da un dottore sì anche io sì il dottor crofford mi ha dato un numero però poi non è andata molto bene credo che sia colpa mia alla fine mi diceva tutte cose che io già sapevo quindi ho pensato vabbè a questo punto ti aiuti da sola no anche papà pensava la stessa cosa però vabbè se a te serve non ci sono problemi ecco no in realtà mi ci hanno quasi costretto ti sei fatta crescere i capelli eh sì dovrei tagliarli no 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 stai bene ti dona giuro davvero sì sì ma non c'è non ti manca proprio l'ospedale stavamo così bene tutto deve cambiare prima o poi no poi quello era l'ospedale il mondo vero è fuori sì forse hai ragione tu vabbè io devo andare non voglio fare tardi anche perché ho le prove di uno spettacolo al club dello spettacolo si chiama Centoclano non so se ne hai mai sentito parlare me l'hai già detto prima sì facciamo che questo sia veramente un bel Natale è il miglior anno della nostra vita sì ci possiamo riuscire lo sai sì hai ragione mi telefoni? certo davvero? sì ti trovo proprio bene sì ciao 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 metticelo tutta eh ciao Ciao!